Vai Gatti, GD, accattatemi tutto e cosa! 5 euro questa! Sì, sì lo sto riprendendo! Serissimo! E' il quarto d'ora che è qua! Sì, sì! Siamo appena a terra lì! Siamo arrivati! Russia! Il buon Lloyd che beve l'acqua e il buon Fred! Abbiamo sbeato un po' di strade! Adesso ci stiamo avviando a Nakabino! Siamo Nakabino! Adesso sarà lo stage questa sera! Primo concerto del tour russo! Belli carichi! Belli carichi! Eta! Dicqua! Eta! Da spaccare con la testa! Ria! Chie! No! 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 Dovevo con il caro rubato alle spalle con quale possiamo... Esatto! Ho appena fatto la ripresa adesso la cara rubata! No! 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 e andiamo a partire All you want. Say hi. All you want to do is close the keys in the bagel. Now, the bagel is not possible to open any other part. We have a cargo car, so obviously we don't have with us the reserve keys. We called the Ivis to give us the reserve keys. The reserve keys were in San Pietroburgo. So they suggested to call a teacher who is in profession, and the other ones are going to remove the keys. So now we are going to meet the guy, and we will see what happens and who is, and if we can recover the keys. That's our guy. What's up, man? People want to see how things are done in Russia. Maybe in Italy this way. Yeah, yeah. You just crush the window and open it. No! Don't do that. Where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? Here. The keys here. Hey. In the trunk. Yeah, son not even puisque. That's why we got to get the key. That was a big. Oh my god. That's a big, man. What the hell I was not supposed to be. Voi vedi? Voi vedi? Vedi? Grazie! Voi vedi! F***! Questo è stato davvero bello! Molto semplice E molto bello! Voioi sono geniose! Uffa! Uffa!